...questa associazione Filo di Simo ci ha consentito di essere con voi questa sera e credo che Filo di Simo sta facendo una cosa veramente fantastica possiamo aiutare i ragazzi un super applauso per questa volta di Filo di Simo porto i bambini e la professione grazie a tutti i miei figli di Simo Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.